ciao a tutti bentornati siamo ancora qua con demon soul e con la valle della corruzione maledetta dietro sta nebbia in teoria dovrebbe esserci il boss adesso lo scopriremo subito e vediamo cosa succede infatti con l'osso immondo già il no ma che cosa è schifo magia debolo al fuoco perfetto ecco però se mi sprucci sta schifezza ma cos'è sta merda che mi lancia addosso diciamo ecco diciamo 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 non l'ho capito però bisogna colpirlo al centro e non farsi colpire da quella merda ecco tipo così ti debili tanto lo schifo 10 ah ti ribelli pure così allora io ti ammazzo troppo lungo sto boss quanto mi dai? 33.000 e trofeo quindi sta zona non è ancora finita mi sa innanzitutto qua attorno non vedo niente c'è qualcosa qua sotto dopo si può risalire anima soldato antico ok perfetto non è neanche senza cadere meglio di così dopo mi sa che bisogna andare su o giù devo andare giù aiuto eh oh non ti inchiodare tocchiamo l'arcipietra vediamo che anima ci dà anima demone e rosa bene ragazzi per ora ci fermiamo qua abbiamo fatto il boss in mondo spero che il video vi sia piaciuto vi invito a iscrivervi al canale mettere un like al video e al prossimo video ciao